Lavoro in vista nel comune di Castellucchio, dove a breve partiranno due importanti interventi che andranno a beneficio della viabilità e del decoro della frazione di Sarginesco. Opere queste che costeranno complessivamente circa 25 mila euro e che andranno ad arginare due importanti problemi che da tempo affliggono il paese. A Sarginesco ci sono due problemi. Uno è la situazione stradale del tratto urbano di via Zanimacchia che ormai è completamente distrutto e che provoca problemi al di là della viabilità anche in termini di depositi di acqua quando piove, di fronte alle case, eccetera. Questo intervento di rifacimento del manto stradale e di ripresa anche nell'intorno delle prese d'acqua verrà realizzato nel giro di un mese. L'altro intervento è pure molto importante, forse ancora di più per il decoro della frazione ed è il tombamento del fosso che c'è in via Gramsci. È la via di accesso a Sarginesco e in molti periodi dell'anno ci si trova di fronte ad una situazione poco piacevole sia dal punto di vista del paesaggio perché ci troviamo un fosso con erbacce che sono poi anche deposito di zanzare, eccetera e a volte anche situazioni maleodoranti. Ecco, noi intendiamo risolvere la situazione tombando questo fosso quindi verrà messa una tombinatura che permetterà quindi la continuazione del flusso d'acqua e però poi con la copertura in ghiaia si realizzerà una situazione di maggior decoro e anche di maggiore salubrità della zona. I lavori saranno realizzati indicativamente entro il prossimo mese. Grazie.